buongiornissimo caffè a tutti quanti allora riaccomi ritornata con un nuovo video oggi sono qui per filmarvi un video che in realtà è da tempo che dovrei filmare sul mio canale anni fa avevo registrato un video tipo cosa c'è nel mio bracciale pandora una roba del genere e mi ricordo che era piaciuto a tantissime di voi è talmente piaciuto a tantissime di voi che più di una mi avete iscritto anche proprio nell'ultimo periodo ma anche l'anno scorso mi ricordo e poi non l'ho mai più fatto e continuate sempre a vedere quel video lì perché vi piaceva come tipologia di video e quindi alla fine ho detto vabbè ma anche di recente mi ha scritto proprio una ragazza e mi ha detto ma sai che continuo a riguardare quel video che hai fatto ma ero cioè era veramente vecchio secondo me risale al 2017-18 giù di lì non mi ricordo fatto sta che ve lo metto qua linkato nell'info box e oggi sono qui per farvi l'aggiornamento non mi ricordo che cosa avevo mostrato dentro quel video ma penso il mio primo bracciale pandora ovvero questo qua che è il bracciale quello con come si dice con i quello rigido semplicissimo come potete vedere e poi io ne avevo un altro piatto con su anche un charm piatto che ho perso cioè prima ho perso lo charm il charm lo charm ho perso il charm e poi ho perso proprio tutto il bracciale vabbè me l'aveva regalato mia mamma fatto sta che poi me ne ha regalato un altro lei e ne ho anche questo qua che spero ovviamente che si veda la chiusura è morbido e la chiusura è questa è un po' difficile da aprire ma comunque ve la ve la faccio vedere bene quindi diciamo che questi qui sono i miei due bracciali pandora che ho ammetto che non li metto tutti i giorni perché ovviamente per lavorare è veramente difficile cioè io è già tanto se riesco a tenere questo bracciale qui che ho tutti i giorni della mia vita e quando in realtà faccio chirurgie tolgo pure bracciali e eventuali anche anelli anche questi anelli qua che ho li tengo però appunto cioè quando lavoro comunque tolgo questo bracciale qui che mi ha regalato Giulia di nursing pills with Giulia lo tengo sempre ad oggi me lo vedete qua ma io di solito lo tengo dietro l'orologio perché così non mi dà fastidio più che altro è che per il lavoro che faccio avere tanti gingilli soprattutto alle braccia mi dà particolarmente fastidio e quindi proprio evito se devo essere sincera allora vi parto con questo qua piccolino che vi faccio vedere come si può vedere questo qui è un bracciale morbido con questa chiusura allora la chiusura di questo charm è terribile ve lo dico già perché vediamo se riesco a farlo in diretta però con l'autofocus secondo me non me lo prende perché prende il mio volto vabbè io infatti non riesco a farlo mai faccio sempre una fatica eccolo qua dovete schiacciare questo pirulino che vi trovate qua sopra ok e si apre così semplice cioè è semplice il meccanismo ma in realtà è difficile da schiacciare questo pirulino purtroppo non è così immediato fatto sta che è questo cuoricino che secondo me è super carino ok e sotto sopra questo charm che in realtà questo è quello che metto principalmente durante la settimana magari se soprattutto non ho chirurgie però in realtà poi ne metto anche l'altro e questo qui è il primo charm che vi faccio vedere la mela di New York che avevo preso appunto a New York quando ci sono stata nel 2015 è semplicissimo così questo lo tengo qui perché è simbolico e mi piace sempre averlo poi se mi seguite da veramente siete veterane sicuramente sapete che io all'inizio il bracciale questo qua rigido l'avevo preso nel 2013 no 2000 no scusatemi fine 2014 inizio 2015 sì perché l'avevo visto ad una mia cugina nelle Filippine che però in realtà noi ci eravamo ritrovate per il funerale di nonna e poi lei in realtà abitava in Australia e gliel'avevo visto e lei si metteva sempre questo bracciale qua semplice senza neanche mezzo charm io come sono tornata in Italia ho preso questo e l'anello che aveva quello intrecciato che ho utilizzato per anni che in realtà ce l'ho sempre lì nel weekend lo utilizzo lo metto sempre qui sempre di Pandora che non lo producono più in realtà quell'anello lì poi piano piano ho iniziato a comprare anche i charm nel senso che questo qui è stato il primo che ho preso la mela a New York e poi tramite le altre collaborazioni le ho prese ok ho preso questi charm qui che voi trovate allora vi faccio vedere vediamo perché è un po' difficile fare l'autofocus così eccolo qua questa la prima è una fotocamera cioè fotocamera è una macchina fotografica ok che secondo me è super carina però non è di Pandora nel senso che è del marchio Sofil di vecchia collaborazione che io avevo fatto il simbolo del viaggio questo qui mappa mondo con l'aereo anche questo di Sofil che secondo me è super carino la tazzina di Starbucks cioè come potevo non avere la tazzina di Starbucks che è proprio una cafonata assurda però anche questo è di Sofil ok il brand ve lo metto anche nell'info box così almeno se volete andare a curiosare costano sono sempre gli soliti charm solo che costano un po' meno cioè sono più abbordabili ma stessa qualità alla fine poi questi due sono due new entry uno da parte del fratello e della compagna di Marco e l'altro è da parte dei genitori di Marco che me li avevano regalati per Natale questo qui aspettate questo è sempre di Sofil mamma mia non riesco a farvelo vedere decentemente eccolo qua con su scritto Mother e mia mamma ha Daughter questo è super carino sempre direttamente from New York e questo me l'hanno regalato ed è appunto la bandiera americana questo qui anche questo di Sofil super carino questo mi piace tantissimo un fiocco di neve questo non potevo non averlo ovviamente cioè come si fa non avere un charm sul segno zodiacale l'unica cosa è che negli anni se vedete bene ha perso tutti i brillantini questo charm purtroppo e l'ultimo è questo qui ovvero simbolo della mia adolescenza la palla da palla a volo come potete vedere è così questo si apre da qua semplicissimo questo è molto più semplice rispetto all'altro e si stacca e si riattacca molto facilmente eccolo qua ok vi ho fatto un update diciamo così dei miei braccialetti Pandora in realtà volevo fare proprio il video di tutta la mia collezione dei gioielli di Pandora perché in realtà per anni sono stata ma lo sono ancora tuttora appassionata dei gioielli Pandora soprattutto gli anelli gli anelli gli orecchini ne ho un po' però gli anelli proprio gli anelli in generale sono la mia grande passione ok cioè se proprio devo scegliere un accessorio io sceglierò sempre l'anello di base cioè che sia grande o piccolo beh qualsiasi tipo mi piace e niente insomma però ci tenevo a fare questo video aggiornamento dopo chissà quanti anni dopo vado a rivedere il mio vecchio video insomma quando l'avevo realizzato sicuramente ero a casa dai miei niente fanciulli io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like non dimenticatevi di iscrivervi al canale noi ci vediamo presto cheers ciao